e gli occhi neri gli occhi del diavolo ciao a tutti ciao a tutti per questo brevissimo video davvero io volevo solo ringraziarvi perché in queste ore abbiamo raggiunto i 2500 iscritti quindi sono davvero davvero contento voglio ringraziare tutti coloro che sostengono il canale in primis tutti gli abbonati quindi ringrazio tutti voi mirko fabiano che è stato il primo iscritto stefano daniele davide marco quindi grazie di cuore a voi perché sostiene il canale ormai da tantissimo ringrazio tutti coloro anche che si sono iscritti in tutti questi anni il canale ormai ha compiuto il suo quarto anno d'età da pochi mesi anche se in maniera proprio attiva ho iniziato soltanto durante la pandemia quindi durante il 2020 ho aumentato un po' la quantità dei video con il passare degli anni quindi sono passato a un video al mese ad un video a settimana due video a settimana adesso più o meno sono quei 4-5 video a settimana vedo che il riscontro da parte del pubblico c'è quindi sono molto grato a voi perché se non ci fossero diciamo i vostri apprezzamenti i vostri commenti i vostri like avrei smesso ormai da tanto tempo ringrazio anche tutti coloro che collaborano con tutti coloro che in questi mesi in questi anni hanno stretto un'amicizia con me tra cui il carissimo amico moreno di intuitive 4k vi invito davvero ad iscrivervi anche al suo canale perché ha un canale top recensioni audio video sui prodotti 4k e dateci davvero un occhiato vi lascio il link nella descrizione di questo video quindi un grazie di cuore anche a moreno sempre per i suoi consigli per la sua amicizia e ringrazio anche tutti coloro che partecipano durante l'anno le varie dirette quindi ad eugenio orcolani che ormai la presenza fissa appunto del canale anche ai vari amici max che ogni tanto collaboriamo con qualche diretta insieme a qualche ospite come claudio lattanzi e tantissimi altri personaggi come daniele misischia che ha partecipato ad un paio di live in questi ultimi due anni insomma ci sarebbero tantissime persone da ringraziare ora non ricordo tutti e me ne scuso comunque grazie di cuore a tutti per il sostegno e ci rivediamo poi magari al quando arriveremo a quota 3000 per un altro video grazie di cuore per per aver visionato questo video e noi ci vediamo molto presto per ulteriori contenuti ciao a tutti ciao a tutti